La casa della salute, la casa della vita non è un beneficio in cui si butta dentro più o meno a caso dei servizi che già hai visto sul territorio, togliendoli dal territorio. No, è un concetto totalmente differente, è un concetto di carico delle persone, che si mette sul lavoro, l'igiene, la residenza e la vita, la tutela dell'attività. Questo dovrebbe essere il principio di un servizio complessivo che abbia confine alla salute non semplicemente l'organizzazione di prestazioni o il paese di bilancio. Noi ci saremo, ci siamo, ci saremo, e noi siamo, come diciamo là, siamo il vaccino contro le privatizzazioni e di dosi ne abbiamo a volontà e saranno disponibili nei prossimi mesi. Ora, per corroborarci un po', per scaldarci un po', forse torniamo a una delle nostre reddincirco con un pezzo musicale e vi ringraziamo, e ovviamente tenete dopo il nostro sito, i siti delle altre associazioni, per le prossime iniziative. Grazie a tutti voi. Grazie. 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 È l'ultimo pezzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.